benvenuto grande anima a questa nuova lezione su yogare proseguiamo il nostro tema superattuale che si rifà agli insegnamenti del saggio maestro filosofo grande padre dello yoga patanjali oggi parliamo di un yam e niyama abbinati insieme dalla tradizione di suami kriyananda parliamo di asteia non desiderare santoscia la contentezza asteia non desiderare viene tradotto anche come non rubare non prendere ciò che non è tuo per diritto non avarizia i desideri sono un po come delle funi che ci tengono legati al nostro alla nostra coscienza mondana quindi sappiamo che più desideri abbiamo più 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 funi ci terranno legati prova a sentire ora con gli occhi chiusi questa energia in movimento che scorre che manda vibrazioni facciamo ancora alcuni esercizi di ricarica fuori l'aria dalla bocca fai un doppio inspiro e tendi tutto il tuo corpo fai i pugni in alza l'energia bassa media alta energia vibra 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 e espira rilassa ci prepariamo per garudasana la posizione dell'aquila porta le mani al bacino fletti il tuo ginocchio sinistro porta la coscia destra sulla coscia sinistra puoi lasciare il piede sollevato appoggiarlo a terra in avanti con il busto addome in dentro stringi bene le cosce fra di loro inspira allarga il braccio sinistra portalo davanti a te tenendo il gomito sollevato inspira allarga il braccio destro passa sotto unisci le mani se difficoltoso unire le mani porta le mani sulle spalle e poi addome in dentro guarda un punto fisso davanti a te e respira profondamente profondi profondi respiri li varichiamo le nostre gambe ancora partiamo sempre allineati con la spina dorsale al muro la nuca ben appoggiata poi portiamo il piede destro ad angolo retto il nostro piede spostato dal muro quanto è la la profondità dei nostri glutei letti il ginocchio destro vieni in avanti metti la mano destra a terra allineando la spalla con il polso mentre raddrizzo la gamba destra sollevo la gamba sinistra e porto sul bra la gamba sinistra e il braccio sinistro grazie a tutti